Ciao a tutti gli amici del canale, oggi è una domenica e ho deciso di fare un vlog all'interno dell'ex mattatoio di Testaccio qui a Roma, è un ex mattatoio che adesso è stato adibito per mercatini di prodotti biologici sia cosmetica che alimentare insomma e quindi venendo qua dentro ci sono molte cose che parlano e raccontano il massacro, la mattanza che è stata fatta all'interno, quindi si respira ancora un'aria abbastanza pesante, magraba, lucubre e questo è veramente molto toccante, è vero se i mattatoi avessero le pareti di vetro credo che in molti inizierebbero a quanto meno riflettere e a non mangiare più carne, ovviamente con l'espansione della città era impossibile mantenere questo mattatoio perché effettivamente le grida si sentivano e si sentivano anche tanto, quindi questo è uno dei motivi per cui il mattatoio è stato chiuso. Vi faremo vedere un po' tutto quello che c'è all'interno e ovviamente anche la parte dei mercati visto che sono per lo più tutti giovani che fanno prodotti casarecci, prodotti fatti a mano, tutta roba naturale, biologica, quindi è bello da una parte venire qui a fare degli acquisti con la consapevolezza che sono prodotti ottimi e naturali, però come ho detto prima si respira quell'aria pesante e c'è proprio l'odore di morte rimane comunque. E niente, facciamo questo giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco adesso stiamo andando nella parte io chiamo della rinascita, quella appunto di guida al mercatino. 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 Ho preso uno shampoo, linea ortiga per tutti i tipi di capelli, ovviamente è delicatissimo, poi ho preso pasta integrale, questa piccolina che non si trova praticamente mai negli altri supermercati, e le pezzettine di bonci, chi non è di Roma forse non lo sa, ma bonci è il migliore per quanto riguarda pane, pezzettini e quant'altro. Allora, tavolinetto, feggioletta. Prima ovviamente ho dimenticato di dire che qui avremmo anche incontrato Mario Domini, l'eremita, e lui approfitta di questi posti per fare volantinaggio e far vedere i propri manifesti, quindi oggi in questo vlog ci sarà anche lui, che è sempre una bella cosa. Allora, tavolinetto, feggioletta. Allora, tavolinetto, feggioletta. Allora, tavolinetto, feggioletta. There was no one left to speak Black triangle, pink triangle, green triangle, red triangle, blue triangle, lilac triangle And they were... Allora, come avete visto Mario si è organizzato alla meglio perché praticamente all'interno dove c'è il mercatino vero e proprio dove vi abbiamo fatto vedere prima, ovviamente ci vuole un permesso e l'organizzatore ha detto non c'è problema però... Bisogna fare una richiesta in anticipo tramite mail? Esatto Per quanto riguarda i commercianti è 25 euro l'affitto del suolo, diciamo così Lui essendo che comunque è un bacchetto informativo anche molto piccolo e poi insomma guardano anche questo, pagherà qualcosina in meno Chiunque di voi fosse interessato a vendere qualcosa, a portare i propri prodotti o anche a fare un semplice bacchetto informativo lo può fare Ovviamente viene analizzato il tipo di pacchetto informativo che verrà fatto perché non deve portare diciamo problematiche all'interno del mercatino Quindi momentaneamente per oggi si è messo fuori come avete visto Anche perché la multa è di più di 5.000 euro Sì vabbè Mario è esente multa perché non è ricattabile quindi non c'è problema però diciamo c'è meno gente all'interno del mercato c'è più gente e fa più effetto Quindi la prossima domenica noi manderemo le mail questa settimana e quindi lui già dalla prossima domenica potrà piazzarsi meglio all'interno E quindi niente noi comunque metteremo questa prima parte di video così tanto per far conoscere Mario a chi ancora non lo conoscesse No ma anche a tutte quelle persone che mi scrivono in privato che vogliono conoscerlo Ora io ovviamente mi sto riferendo ai romani cioè non bisogna essere leoni da tastiera essere interessati tramite una tastiera Se siete veramente interessati ci sono state varie occasioni per conoscerlo quindi non venitemi a dire lo vorrei conoscere Perché lui invita sia in grotta e invita anche in occasioni del genere è abbastanza disponibile per qualunque domanda ma anche per una conversazione amichevole Quindi dovete approfittarne in questi momenti non scrivermi in privato a me poi alla fine non c'è nessuno neanche oggi